un modo di pensare difensivo bisogna prendere un altro tipo Caro Coletti, non è che bisogna andare adesso più nel sottile perché altrimenti commetteremo un grave errore qui adesso non si parla più di principi di gioco o altro ma bisogna infondere nella mentalità dei calciatori il discorso che questa squadra deve cominciare a pensare come fare per salvarsi e quindi di conseguenza deve cercare innanzitutto di non prendere gol perché se ha difficoltà a fare i gol e prende i gol molto facilmente difficilmente una squadra come questa potrà salvarsi e altre squadre sicuramente saranno molto più attrezzate da questo punto di vista ora io non lo so se sei tu l'allenatore per raggiungere questo obiettivo certo bisogna salvarsi